ciao a tutti amici e benvenuti alla bianco auto oggi vi voglio proporre questa vettura fantastica che è un golf 1.6 turbodiesel del febbraio 2015 con 73.500 chilometri 1.6 turbodiesel 110 cavalli una versione lounge molto accessoriata in un colore molto particolare che si chiama grigio krypton metallizzato che ne trovate pochi quindi avrete una macchina unica con fare lo xeno ruote in lega da 17 vetri posteriori oscurati volante multifunzione specchietti richiudibili elettricamente clima automatico bizona sedili riscaldati navigatore satellitare bluetooth presa usb e media interface ad un prezzo veramente imbattibile c'è una macchina così con pochissimi chilometri del 2015 la proponiamo a 14.900 euro più spese di matricolazione messe in strada ma la chicca arriva adesso con 36 mesi di garanzia quindi sì avete sentito bene vettura del 2015 con 36 mesi di garanzia vi voglio anche ricordare queste vetture prima di essere consegnate vengono tagliandate e scrupolosamente verificate nella nostra officina che è aperta dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 19 da lunedì a venerdì e il sabato dalle 8 a mezzogiorno l'officina e la concessionaria la trovate a motta di costigliore d'asti sito internet dove trovate questa e tutte le altre vetture comprese di foto e non foto descrizione biancoauto.it telefono 0141 96 92 14 veniteci a trovare vi faremo vedere questa e altre vetture che abbiamo qui in salone fantastiche ciao a tutti amici e alla prossima